Le faccio vedere sulla cartina, le ho aperto la cartina e questa signora mi ha chiesto ma cosa sono tutti questi segni rossi? Non c'è un altro modo di scendere, un modo facile e bisogna appunto rispondere non c'è, se sei salito da questa devi scendere poi uno dice io voglio scendere in elicottero, non voglio scendere a piedi un altro esempio, arrivano tantissimi qui con le scampe rotte ma tantissimi, allora scocci, comincia a scocciare le scarpe cioè la ferrata che scende in Valdega da questa parte a volte si cerca come dire un po' la complicità del gestore per farsi dire ma si dai falla si esatto, cercano il consenso nostro specialmente quando appunto si viene detto che bisogna avere l'attrezzatura adeguata, che non si va senza casco e senza imbrago visto anche gli incidenti che tra l'altro sono successi quest'estate e nonostante ciò pensano di andarci comunque noi ne parliamo tanto alla sera, quando sono ospiti da noi ci fanno le domande e spieghiamo tutte queste cose avete fatto anche voi la maglietta Vivere in Rifugio eccola qua, questa è proprio ad hoc per Vivere in Rifugio e Dolomiti Unesco che ha pensato questa bella iniziativa grazie a tutti grazie a tutti